Ciao, sono Lorenzo, progetto Un Futuro Verde. Ciao, sono Zeno, trasformo in business le nostre visioni. Ciao, sono Tommaso, coltivo economie sostenibili. Ciao, sono Sara, do voce alle idee. Il nostro nome è Bulbo e tutta la nostra energia è concentrata qui. Bulbo porta la natura dove luce non c'è. Bulbo è vita, ti fa compagnia. Non importa se non hai un terrazzo o un giardino, se fuori è inverno e fa freddo, con Bulbo è sempre primavera. Puoi coltivare piante, ortaggi, fiori ed erbe aromatiche ogni giorno dell'anno a qualsiasi latitudine. Basta solo accenderla, lei si occuperà del resto. Bulbo è una lampada che utilizza tecnologia LED per riprodurre lo spettro luminoso ideale per attivare la fotosintesi e far crescere le piante in casa. Con gli agronomi dell'Università di Bologna abbiamo studiato una luce sicura che non danneggia le piante e le fa crescere in maniera sana e naturale. Bulbo è geniale, ma noi non ci accontentiamo. Vogliamo che Bulbo diventi intelligente, che possa interagire con te. Il nostro prossimo passo è creare una app che ti metta in comunicazione con la pianta. Ecco come. Prima di tutto scegli la tua pianta e imposta i parametri giusti per ciò che vuoi coltivare. La app ti aiuta a regolare lo spettro luminoso indicandoti il migliore mix di frequenze bianche, rosse e blu per far crescere al meglio la tua pianta. Puoi impostare l'accensione e lo spegnimento automatico e graduale come l'alba e il tramonto. Se ancora non sei un pollice verde modello, niente paura. La app ti avvisa ogni volta che la pianta ha sete, freddo, caldo o in carenza di nutrienti nel terreno. I sensori sono capaci di rilevare l'esatto stato di salute della pianta e comunicartelo velocemente. Così giorno dopo giorno puoi tenere sotto controllo tutte le fasi di crescita. La app ti dirà se sei sulla buona strada. Potrai anche sempre tenere monitorata la produttività della tua pianta e controllare mese dopo mese i consumi della lampada. Se invece hai qualche dubbio o bisogno di un consiglio, entra nella community e tutto sarà più facile. Per realizzare tutto questo abbiamo bisogno del tuo supporto. Ci basta solo un aiuto grande così per farlo diventare così.